Ida e Riccardo si sono lasciati di nuovo, lui sta già frequentando un'altra È finita la storia d'amore tra Ida e Riccardo del Trono Over, la conferma è arrivata durante la registrazione del 24 novembre. I colpi di scena a uomini e donne non mancano mai, e nel corso dell'ultima registrazione del Trono Over è emerso che tra Ida e Riccardo, una delle coppie storiche del programma, protagonista quest'estate anche di Temptation Island, è definitivamente finita, video. Un annuncio che ha spiazzato i fan della coppia, i quali speravano che tra i due le cose stessero andando per il verso giusto, ma in realtà non era affatto così e, come se non bastasse, è emerso che Riccardo avrebbe un'interesse nei confronti di un'altra donna. L'addio tra Ida e Riccardo di Uomini e Donne, è finita. Le anticipazioni di Uomini e Donne di queste ore rivelano che Ida si è presentata in studio per raccontare al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi le ultime novità sul suo rapporto con Riccardo. La dama del trono over ha svelato che la situazione è precipitata per l'ennesima volta, con Guarnieri che ha deciso di rientrare a Taranto, la sua città natale. La donna, però, dopo essersi presa un periodo di pausa e di riflessione non si è data per vinta, e così ha deciso di raggiungere per l'ennesima volta Riccardo. La dama Lombarda, infatti, da Brescia è partita alla volta di Taranto, dove ha provato a chiarirsi ancora una volta con il Cavaliere. Peccato, però, che questa volta il trattamento riservatele da Guarnieri non sia stato dei migliori, poiché pare che l'uomo abbia fatto di tutto per liberarsi al più presto della presenza dell'ormai ex fidanzata, e per chiudere per sempre la relazione. Quest'atteggiamento, naturalmente, ha lasciato Ida senza parole, la donna, infatti, pur di incontrare e cercare di chiarire la situazione si è messa in viaggio da Brescia fino a Taranto, già che Riccardo ormai non rispondeva più alle sue telefonate. Riccardo si sta frequentando con un'altra donna. Ma le gossip news su uomini e donne non terminano qui e, infatti, rivelano che il colpo di scena è arrivato nel momento in cui Riccardo, accolto in studio, si è soffermato su un certo interesse che proverebbe nei confronti di un'altra persona. A quanto pare, infatti, l'ex concorrente di Temptation Island avrebbe già iniziato a frequentare un'altra donna, Video, e tutto ciò fa capire come, ormai, ci siano ben poche possibilità di assistere ad un ritorno di fiamma con Ida. Ida Platano, infatti, conscia della situazione, ha preferito lasciare lo studio di uomini e donne, visibilmente amareggiata e delusa. Il cavaliere pugliese, invece, ha voluto restare in trasmissione, probabilmente solo per assistere alla nuova registrazione del trono over. Grazie a tutti!